Al Via e Molise 54 nuovi corsi di formazione professionale è stata infatti approvata la graduatoria dei diversi percorsi a catalogo per un valore di oltre 2 milioni e 200 mila euro. Per i partecipanti tutto gratuito e se non occupati riceveranno un'indennità di frequenza pari a 4 euro per ogni ora di stagio formativo di cui si è accertata la presenza. I corsi saranno avviati già nei prossimi mesi e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022. Si inseriscono nelle attività dell'Aggiunta regionale finalizzate a favorire l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro con una particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e di sviluppo socio-economico del territorio. Si tratta di attività moderne, innovative e pienamente rispondenti alle esigenze della new economy, del turismo, dell'ecologia ma anche del sociale, dell'e-commerce e dell'enogastronomia oltre che della comunicazione e del marketing. È possibile recuperare il catalogo formativo con il dettaglio dei nuovi corsi su molise in europa.regione.molise.it sezione avvisi e bandi FESR oppure al link www.regione.molise.it sezione alboperatorio. Grazie a tutti.